vogliamo essere sgaramatici almeno ragazzi almeno un video vi faccio vedere dopo dai acqui dai, dai dai, dai dai, dai dai, dai bloccalo, bloccalo, bloccalo dai, 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 subito vinta, vinta bloccalo, bloccalo bloccalo fermalo, fermalo dai dai, ragazzi, non mollate come prima, avanti non è finita dai, qui non è finita quanto è passato? pochi secondi ecco, lì di solito, guarda, l'ha affintato non l'ha neanche toccato grazie ecco grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aiuta, aiutatemi! Evito il sostegno. Ragazzi, dovete fermarvi subito, non in meta! Hai visto che ci ho provato? Ho scomiso. Grazie a tutti. Ho scomiso. 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 È giocato. Ragazzi! Grinta! Metteteci la grinta! Dai, ragazzi! Tocca! dai la palla stai giocando adesso dai acqui bravi giocatemela giocatela giocatela in realtà è l'occasione di fare la gita andiamo a Iesolo dai ragazzi non mollate non mollate vai 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 dai occhio no acchio dai 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 vai vai eh questo che roba si però si è fermato uno dei genocchi non vi all'idea non è che deve st aspire sempre a pongare si lo prive l'altro eh vedi partono sempre così in due se uno viene a pongare la passa all'altro nel sostegno è politissimo è così eh, però se tu non gli placi solo uno stedio, non gli stai vicino eh, adesso non ce ne sono sommate in po' di minuti, non lo so dentro no? dentro? eh, mi si sono sommati un po' di minuti, non so adesso, perché c'è già un po' di minuti qua dai acqui, dai, non mollate, non mollate, non mollate, dai, flaccate subito, flaccate, dai, dai dai ragazzi dai acqui giocate, dai, acqui dai, giocatela tutta, dai, 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 dai aiutate, dai, dai dai acqui, dai 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 bloccalo bloccalo buttalo buccalo ce ne tre capisci 4..? 4 sono andati su Platz il 4 sono andati su è tutto un altro livello esatto è tutto registrato è pronto e lo metterò in Mondo Vingione grazie a lei che bello c'è grazie a tutti 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 grazie a tutti